benvenuti in questo nuovo video vi mostrerò come collegarci in maniera semplice e veloce a una rete wifi per prima cosa andate su questo sito che trovate anche in descrizione potete farlo sia da telefonino che da computer che si chiama qrstuf questo sito ci permette di creare dei codici qr per le più svariate funzionalità come ad esempio linkare il nostro sito web il nostro canale youtube delle foto dei pdf il nostro account twitter e via dicendo quello che servirà a noi però lo troviamo in basso e la terza ultima voce in basso ed è il wifi login andare a creare il nostro wifi login qui ci chiede due dati il nome del nostro network se non lo sapete andate nel o dietro al modem o nel sito di configurazione del modem che di solito è 192.168.1.1 e inserite una password se ve la chiede e andate a copiare il nome della rete ok ok dopodiché andate a copiare la password e la inserite sotto copio incolla un'altra verifica da fare è controllare il tipo di network se vpa1 vpa2 via dicendo in questo caso vpa2 lo lasciamo così nella casellina destra andiamo a cercare il colore che più ci piace per il nostro qr una volta scelto andiamo a fare download qr code e ci scaricherà il nostro codice qr chiudiamo eventuali pubblicità che appaiono ecco qua una volta scaricato potremmo stamparlo per averlo lì che chiunque viene lo scannerizza ottenendo salvato nel telefono la cosa da fare per chi vuole collegarsi al wifi e scaricare un lettore qr quello che vedete nel video quello che io consiglio e che ho provato per questo trucco e vi lascio anche questo il link in descrizione il funzionamento è molto semplice una volta installata andremo ad aprirla vabbè qui ci spiega un po l'applicazione andiamo avanti e potremo scansionare il file sia con la fotocamera che da una foto quindi potremmo andare anche a selezionare la foto adesso io farò l'esempio con la fotocamera però vi faccio vedere vedete andiamo in immagini qui troveremo la nostra foto lì in alto cliccando la ci collegherà io mi allontano ecco qui vedete l'ho preso da un altro telefono e qua mi dà le varie opzioni posso connettermi direttamente al wifi o copiare la password o copiare se mi deve servire il nome della rete se noi facciamo connettisi al wifi vedete in alto adesso si è collegato come per magia questo è tutto se non vuoi perdere nuovi trucchi su android e nel mondo delle auto iscriviti al canale lasciami un like se ti è stato utile il mio video